La palla a volo, Monza conquista la Cev Cup 2022, primo trofeo internazionale della sua storia. I Brianzoli vincono 3-0 contro i francesi di Tour. Maurizio Colantoni. Per la prima volta la Coppa ci è valsata in cielo. La vero volley Monza, vista il successo dell'andata, batte ancora il Tourz e mette in bacheca il primo scintillante trofeo. Un traguardo voluto, costruito nel corso della stagione. Monza ha avuto la strada spianata, certo, dalla squalifica dei russi dello Zanit e Kazan, ma nessun regalo. Si è guadagnato sul campo la vittoria. L'ultima italiana a vincere la Cev nel 2018 era stata Trento. Monza viene premiata, coronando così il duro lavoro di questi anni, evidenziato dal quarto posto in Superlega della passata stagione. E per Monza questa vittoria è il miglior biglietto da visita verso i play-off scudetto. Troverà una corazzata come Civitanova. Ce l'abbiamo vinto tutti insieme. Ognuno ci ha messo un mattone che ci serviva per costruire la vittoria. Sono contentissimo per tutti noi, per questa società che ce l'abbiamo fatta. Sono emozioni incredibili. Intanto però si festeggia. Applausi per il bomber tedesco Grozer. Potenza, uomo squadra, determinante soprattutto per certe partite. La squadra di Massimo Eccli dopo il 3-0 dell'andata è riuscita anche ad espugnare il campo francese. In violato, in questa stagione, cuore, entusiasmo, qualità, determinazioni, le armi di Monza che festeggia così la più importante vittoria della propria storia.